Zip News Zip News.it Le notizie nel modo più veloce Zip News Un saluto dalla redazione in studio Elena Pelissetti stragi di sangue sulle strade del Piemonte 9 morti in meno di 3 giorni 3 diversi incidenti nel Cuneese e altrettante vittime che salgono a 38 da inizio anno l'ultimo schianto è stato fatale per una donna di 42 anni dall'Assemblea degli Industriali Torinesi il monito del presidente Marziai in momento drammatico serve un piano di emergenza e sul caro energia aggiunge in Italia la latitanza della politica energetica deve finire Pedopornografia sequestrati migliaia di file per acquisizioni da Torino in tutta Italia smantellata una rete di utenti che scambiava in rete materiale pornografico realizzato mediante sfruttamento di minori Grandi del mondo tech, start-up e giovani opinion leader si confrontano a Torino sulle prospettive del metaverso espansione virtuale del mondo reale dove 350 milioni di persone vivono già generando un mercato di beni virtuali di circa 54 miliardi di dollari l'anno l'occasione per illustrare i nuovi trend è il primo festival del metaverso in Italia in programma oggi presso il Duomo delle OGR a Torino Calcio la Juve si affida a De Maria per uscire subito dalla crisi stasera l'argentino torna in Champions per la decisiva sfida contro gli israeliani del Maccabi questa era l'ultima notizia grazie per l'ascolto in regia Rosario Perez Zip News Zip News.it Le notizie nel modo più veloce Zip News Zip News Zip News Zip News Zip News Zip News